E' tornato a riunirsi in mattinata il Consiglio regionale del Molise, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, ma a tenere banco l'ASREM e la decisione del direttore generale Pirazzoli di non rinnovare i contratti a progetto di 170 lavoratori. Intanto, dopo la class action annunciata lo scorso mese di febbraio, il dottor Angelo Di Stefano si è rivolto all'ufficio anticorruzione. All'indomani dello strappo consumato all'interno del centro-sinistra con lo scambio di battute dure tra il senatore del PD Ruta e il governatore Frattura abbiamo raccolto i commenti dei politici. Intanto il governatore in una lettera aperta puntualizza per il Molise c'è bisogno del lavoro e di una squadra unita. A fare chiarezza sulle motivazioni dell'ultima sentenza emessa dal TAR che ha rispinto il ricorso presentato dall'azienda TM, il governatore Frattura e l'assessore Nagni. Nell'occasione è stato fatto anche il punto sulla gara d'appalto e sulla situazione debitoria creditizia. Tutto pronto a termoli per il tredicesimo campionato nazionale di Kung Fu Sanda che si disputerà il prossimo weekend al Palas Abetta. Circa 350 gli atleti provenienti da tutta Italia per un evento di grande rilevanza nazionale. Ben trovati con l'informazione di Molise TV come avete appena sentito dai nostri titoli è tornato a riunirsi mattinata il Consiglio regionale del Molise. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno ma tenere banco l'ASREM e la decisione del direttore generale Pirazzoli di non rinnovare i contratti a progetto per 170 lavoratori. Servizio. Alcune decisioni del nuova direzione generale dell'ASREM guidata da Mauro Pirazzoli mettono davvero fuori tante figure professionali con contratti rinnovati. Negli anni oggi protesta in Consiglio regionale si spera di trovare una soluzione. Io sono con Malatesta di Larino, che tipo di funzione svolgevi verso l'ASREM? Noi nel mio settore particolarmente mi occupo di elaborazione dei dati come operatore informatico quindi nell'ambito del progetto H e quindi nella riduzione dei tempi di attesa. Come me ci sono tanti altri ragazzi che lavorano al progetto AFA, al CERT, alla PUA, assistenti sociali, addirittura in alcuni uffici importanti come il bilancio, le esenzioni ticket e il progetto diabete. E cosa chiedete voi? Noi chiediamo delle risposte perché come diceva lei prima abbiamo delle professionalità acquisite nei vari anni di servizio che abbiamo prestato per l'ASREM. Dobbiamo dire che l'abbiamo sempre fatto con umiltà, professionalità e dando il massimo supporto ai vari dirigenti e funzionari con cui abbiamo collaborato. Questa lettera pervenuta ai vari dirigenti nei giorni scorsi praticamente stabilisce che secondo la Corte dei Conti non possono essere più rinnovati questi contratti. Ma noi vogliamo far presente che non graveremo assolutamente sulle finanze regionali. Tra l'altro poi spesso nel settore informatico ci sono società esterne che lavorano all'ASREM. Esatto, è questo di cui noi abbiamo paura. Abbiamo messo tempo per imparare e entrare nel sistema, abbiamo delle professionalità acquisite e poi non graveremo sulle spese della regione perché sono dei fondi che vengono dalla comunità europea, già stanziati e disponibili. E sarebbe assurdo e illogico rimandare indietro questi fondi senza sfruttarli. Ecco, ma avete avuto degli incontri con la direzione generale dell'ASREM? No, nessuno mai ci ha risposto. Abbiamo scritto più volte lettere per avere un incontro e mai nessuno, non abbiamo avuto riscontro. Tu di che ti occupi? Io sono al farmaceutico, sono come supporto informatico per quanto riguarda il corretto uso dei farmaci. Invece? Io mi occupo invece sulla prevenzione delle patologie quando riguarda l'anziano, è un miglioramento della qualità della salute del soggetto sia adulto sia nella terza età, attraverso l'attività fisica. Tanto figure e competenze conquistate nel tempo, no? Certo, certamente, quindi tutti diciamo ovviamente laureati e comunque ben messi anche sul campo, insomma con varie esperienze anche già fatte. Senza di voi come si pensa di curare questi servizi? Il problema è infatti noi siamo venuti a chiedere una risposta più che la nostra, per i nostri utenti, per i pazienti, cosa si devono aspettare, con che servizi rimarranno più che altro. Quello è quello che noi vogliamo chiedere oggi. Da cinque anni ci occupiamo dell'assistenza dei portatori di diabete, sia a livello amministrativo che a livello sanitario. All'interno di questo progetto ci sono varie figure professionali. Dal primo di aprile i portatori di diabete resteranno senza assistenza su distritto di Venafro e distritto di Serna. All'indomani dello strappo consumato all'interno del centro-sinistra con lo scambio di battute dure tra il senatore del PD Ruta e il governatore Frattura, abbiamo raccolto i commenti dei politici. Intanto Frattura, in una lettera aperta puntualizza per il Molise, c'è bisogno del lavoro e di una squadra unita. Il servizio. Ieri conferenza di Roberto Ruta come senatore si dice che lei da qualche mese ha stretto una forte collaborazione politica con il senatore. Come la giudica quella conferenza sul marciapiede senza Frattura? Io non ho avuto la possibilità né di ascoltarla né di vederla. Rispetto alla mia alleanza col PD, io l'ho fatta all'inizio, ricordo di averla fatta insieme al presidente Frattura, insieme all'allora segretario regionale onorevole leva, intendo mantenerla fin quando c'è il giusto rispetto delle parti. Non entro nel merito della conferenza stampa, di lettere aperte, eccetera, perché credo che questo rientra nella prerogativa di ogni rappresentante dell'istituzione di aderire a qualsiasi procedura che ritiene utile per poter manifestare dissensi o apprezzamenti. L'ho letta questa mattina. Lei ha la carica della grande mediazione, dal presidente del Consiglio, ma secondo lei, anziché mandarsi queste letterine, un incontro chiarificatore, ci può essere oppure si apre pian piano una piccola crisi del centro-sinistra? Ma io non parlerei di crisi, parlerei che tra persone, tra uomini, tra esseri umani, l'incontro, il confrontarsi su problematiche, su idee, su risoluzioni, su come procedere nell'interesse del bene pubblico. Io credo che sia un atto dovuto e sia sempre l'azione più giusta che porta ad affrontare i problemi. Lettera aperta dell'amico Roberto Ruta al presidente. Come la giudica l'assessore Nani? L'ha giudicata già il presidente. Ha fatto una dichiarazione. Per quel che mi riguarda come assessore e come gruppo, noi abbiamo fiducia nel lavoro del presidente, siamo convinti che sia sulla buona strada e sono anche convinto che il centro-sinistra, per poter essere competitivo, deve essere unito. Il lavoro buono fatto da questo governo, e buono che è stato fatto a Roma dai nostri parlamentari, deve essere un lavoro comune. Questo ha dato la forza a questo centro-sinistra per vincere e questo deve essere l'obiettivo finale. Quindi anche qualche scossone può essere utile a ragionare, ma l'obiettivo deve essere l'unità. Non si poteva chiarire in una partita a tennis, come nel passato, con Ruta. Perché queste le... Perché lì vingo nettamente e questa cosa non accade in politica. E ad intervenire sull'argomento anche il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Il Molise ha bisogno di unità e soprattutto di stabilità politica per risolvere le tante problematiche che attanagliano le imprese. Questo il suo appello. Aprendo una nuova e convulsa fase politica, si legge nella nota del presidente Di Niro, si rischia di avviare un percorso di stagnazione fatto di pretestuoso indugio che farebbe perdere tempo prezioso. Occorre un impegno serio, rimboccarsi le maniche e cambiare registro per delineare una volta per sempre la visione strategica a cui improntare il futuro del Molise, conclude la nota stampa. Torniamo ora a parlare di trasporti e nello specifico della querella giudiziaria tra la Regione e l'azienda Trasporti Molisana. A fare chiarezza sulle motivazioni dell'ultima sentenza emessa dal TAR che ha respinto il ricorso presentato da ATM, il governatore Paolo Frattura e l'assessore Pierpaolo Nagni. Sentiamo. Assessore Nagni, nonostante la Regione impegna il doppio delle risorse da quelle che arrivano dallo Stato, i servizi non sono ancora eccellenti e soprattutto le aziende che lo fanno si permettono anche di scioperarlo. Noi rispetto a quanto sta succedendo abbiamo avviato procedure nei limiti della legge e nei termini di legge, sia nella non aggiudicazione della gara sia nell'ipotesi di avviare una gara nuova. A questo aggiungiamo una situazione di recupero di crediti nei confronti di aziende legati ai bilanci fino al 2013 fatti da studi professionali che avevano avuto in carica dai governi precedenti. E rispetto a quel lavoro è venuto fuori una serie di situazioni che vanno a compensazione e a vantaggio della Regione. Noi dobbiamo fare in modo che queste cose siano chiarite, soprattutto con l'ATM, che è l'azienda che oggi ha il maggiore flusso chilometrico della Regione e che aveva qualche tempo fa interrotto il pubblico servizio perché a suo sentire avanzava dei crediti da parte nostra. Credo che la situazione non sia quella, lo abbiamo specificato nella conferenza stampa, ci sono delle situazioni anche molto forti finanziariamente che noi rivendichiamo e rivendichiamo anche la possibilità di poter intercedere nel quadro complessivo utilizzando una forma di arbitrato che i contratti prevedono e che potrebbero in un certo senso risolvere la questione finanziaria. Atto dovuto, siete rivolti sia alla Procura che all'Avvocatura regionale. Sì, abbiamo fatto tutti e due i passaggi, soprattutto alla Procura della Repubblica, più che atto dovuto, a nostro avviso è un'interruzione di pubblico servizio, nel vero senso della parola perché le motivazioni di quell'interruzione relativamente ad una situazione finanziaria debole sono a nostro avviso molto labili e sono anche fortemente strumentali e quindi per questo motivo noi ci siamo rivolti alla Procura. Mi auguro che la Procura faccia il suo lavoro e che presto venga fuori un giudizio che potrà avviare anche procedure eventuali di risoluzione del contratto. Parliamo ora di ricostruzione post-sisma. 34 interventi in 17 comuni per un totale di 2.366.000 euro. Oltre 600.000 euro invece le risorse destinate allo scorrimento delle graduatorie per i pagamenti dei lavori che hanno interessato il comune di San Giuliano di Puglia. A renderlo noto il consigliere Salvatore Ciocca. Gli interventi di riparazione funzionale e miglioramento sismico, ha precisato Ciocca, riguarderanno i comuni di Larino, Casa Calenda, Ururi, Macchia, Valfortore, Santa Croce di Magliano, Boiano, Casa Calenda, Campobasso, Limosano, Toro, Guglionesi, Colle Torto, Cerce Maggiore, Ripabottoni e Rotello. E torniamo a parlare di sanità dopo la class action annunciata lo scorso mese di febbraio. Il dottor Angelo Di Stefano si è rivolto all'ufficio anticorruzione per far luce sull'incarico affidato a Giuseppina Arcaro che non avrebbe i requisiti per ricoprire il ruolo di direttore sanitario. Sentiamo. Dottor Di Stefano, qualche giorno fa lei ha fatto una conferenza stampa sulla sanità molisana, ha promesso anche una class action. Cosa è cambiato in questi giorni? Ma assolutamente niente. Nella mia conferenza stampa avevo messo in evidenza alcune gravi situazioni quali per esempio il non possesso di alcuni titoli da parte di qualche dirigente della ASREM. Quindi prima di andare a pensare di fare class action e tutto cerchiamo di organizzare un sistema istituzionale giusto e regolare nella nostra regione. Lei non si è fermato, subito si è rivolto ad organi competenti? Sì, io sono un dipendente dell'ASL. La nostra ASL ha all'interno un ufficio anticorruzione diretto dalla dottoressa Buono. Mi sono rivolto alla dottoressa Buono, gli ho segnalato queste inadempienze. Anzi, penso che ci siano anche ipotesi di reato. Pertanto ho chiesto alla dottoressa di segnalare il tutto, intanto di fare prima un'inchiesta. Gli ho fornito tutta la documentazione atta a venire a capo di questa situazione. Dopodiché lei ha l'obbligo di segnalarlo al dottor Pirazzoli, al direttore amministrativo dottor Riccardi, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e io credo che ci siano anche gli estremi per consegnarlo al dottor Cantone dell'anticorruzione nazionale, in quanto stiamo vedendo che questi personaggi, gira e rigira, sono sempre gli stessi. Ecco, è arrivata anche nella settimana scorsa la relazione annuale della Corte dei Conti dove segnala proprio nel settore della sanità grandi inadempienze, nonostante c'è stato un antirivieni di dirigenti alla LASRE e il risultato non è cambiato. Ma non vorrei essere presuntuoso a dire grazie alla Corte dei Conti che ha certificato, o anzi legalizzato, una mia supposizione. È dal 2007 che da Roma ci mandano questi supermanager per riportare i conti della nostra regione a livello sanitario nel giusto canale, cioè di fare dei risparmi e tutto questo non è avvenuto. Allora io chiedo di nuovo con forza sempre alla Corte dei Conti e tramite la dottoressa Buono se queste persone che da sette anni sono venute qui a dirci come dovevamo risparmiare e ci hanno procurato un danno di 50 milioni di euro l'anno per quello che riguarda la sanità più tutti i balzelli che abbiamo dovuto pagare, e io chiedo umilmente se è giusto che questi deficit li paghi il popolo molisano o li paghi chi è pagato per arrivare a questi risparmi. L'assurdo che noi abbiamo notato in questi anni è che questi manager che sono venuti da fuori, che sono venuti a dirci come si fa per risparmiare con risultati catastrofici, hanno preso anche il premio a produzione. Intanto si ipotizza una sostituzione di Nicola Rosato a subcommissario? Ma guardi, a dire la verità non ce ne siamo proprio accorti che ci stava rosato, ce l'ha ricordato la Corte dei Conti che ci troviamo di nuovo con 50 milioni di deficit anche nell'anno passato. Noi vogliamo la sanità e vogliamo che gli ospedali ci siano perché che se ne dica alla Regione Molise toccano mille posti letto. Passiamo ora alla cronaca sventata truffa ai danni di un'anziana a Montenero di Bisaccia. Nel tardo pomeriggio di ieri due donne si sono presentate presso l'abitazione dell'anziana come venditrici di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Una delle donne è rimasta sull'uscio della porta, l'altra tendeva all'esterno. Per distrarre l'anziana di Montenero che vive in un appartamento di Viale Europa, una delle due truffatrici ha chiesto un bicchiere d'acqua. La pensionata di circa 80 anni al ritorno dalla cucina ha notato che la porta del corridoio era stata aperta. Resasi conto della truffa in atto, la pensionata ha iniziato ad urlare tanto che le due donne non hanno potuto far altro che scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e un'ambulanza del 118. Restiamo in Basso Molise, nello specifico a Termoli, dove tornano sul piede di guerra i balneatori che hanno sollecitato l'intervento dell'amministrazione sbrocca per la pulizia della spiaggia ridotta a una distesa di detriti dopo le mareggiate dei giorni scorsi. L'assessore e il dirigente all'ambiente rassicurano a breve partiranno i lavori di bonifica sull'intero litorale cittadino e servizio. Con l'avvicinarsi della primavera tornano a farsi sentire i balneatori termolesi che hanno voluto incontrare l'assessore e il dirigente all'ambiente. Infatti questa volta finira al centro della discordia il tema legato alla pulizia del litorale cittadino, ridotta ad una distesa di detriti dopo le mareggiate dei giorni scorsi. Siccome la situazione è veramente intollerabile, allora volevamo avere un contatto diretto per capire cosa a questo punto l'amministrazione aveva deciso. E ci è stato assicurato che proprio in queste ore partiva il contratto annuale con una società la quale è incaricata di fare le pulizie, sia quelle straordinarie, chiaramente sulla battigia, che poi anche il carico dei detriti. Quando partiranno i lavori? Ci è stato assicurato che a ore dovrebbe essere tutto pronto e che i lavori partirebbero da sotto il borgo. Che tipi di detriti si sono accumulati sulla spiaggia? Questa volta con i forti temporali ci sono state da parte proprio dei fiumi, hanno portato a mare tantissime di quelle canette, anche residui di piante, tronchi. Quindi c'è un qualcosa veramente di preoccupante per tutti quanti noi, perché a giorni dovremmo già iniziare i nostri lavori di apertura e quindi di messa in sicurezza delle strutture e anche la parte dell'arenile di nostra competenza. Però vorremmo che tutta la spiaggia, non soltanto per il turista, quindi l'immagine, ma anche per la stessa città, iniziassero i lavori, perché mi pare che sia corretto che questo avvenga, senza che comunque, tra l'altro, dovremmo noi spingere su questa cosa. Puntate ad aprire a Pasqua? Noi faremo di tutto come tutti gli altri anni, però abbiamo avuto tantissimi danni proprio da questo ultimo temporale, per cui ci sono state parecchie scoperchiature e quindi inizieremo e ci auguriamo di accelerare i tempi per poter almeno garantire Pasqua e Pasquetta, diciamo, l'apertura del Lido, insomma, se ci riusciamo, però non è assicurato. Insomma, chiedono un intervento in tempi brevi dell'amministrazione comunale e balneatori, che in caso contrario minacciano di far partire le diffide nei confronti dell'ente basso molisano. Restiamo a Termoli, dove il personale della Polizia di Stato ha arrestato due pluri pregiudicati di origini pugliesi, rispettivamente di 34 e 39 anni, resisi responsabili di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti sono riusciti a bloccare malviventi che stavano cercando di rubare un veicolo. All'interno dell'autovettura usata per compiere il furto sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti atti allo scasso e due centraline elettroniche. Utilizzate normalmente per mettere in moto con facilità i veicoli da rubare. Dopo le formalità di rito, i due sono stati condotti nella casa circondariale di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Questa appena aperta è la settimana della disabilità. Diverse le iniziative organizzate in occasione della giornata regionale del prossimo sabato 21 marzo, presentate in conferenza stampa. Vediamo. Diffondere e rafforzare la cultura dell'integrazione sociale, questo lo scopo della giornata regionale della disabilità che si terrà il prossimo 21 marzo. L'assessorato alle politiche sociali ha presentato oggi il cartellone delle attività legate a tale iniziativa, ribadendo attraverso l'assessore regionale a ramo l'importanza del sostegno alle persone diversamente abili, non solo in termini monetari, ma anche e soprattutto di inclusione sociale e nella vita lavorativa. Una società arretrata monetizza, nel senso che oltre all'assegno di inabilità che spetta per legge, oltre alle indennità di accompagnamento che lo Stato eroga perché ci possa essere un aiuto e un sollievo alla famiglia, io credo che se ci sono altre risorse noi dobbiamo puntare invece ad affermare la dignità di quell'essere umano, farlo studiare, aiutarlo nel lavoro, aiutarlo anche nello sport, cioè fargli pesare il meno possibile la sua condizione di disabile. Una società che costruisce questi percorsi, anche culturali, regala una soddisfazione incredibile. Penso per esempio a quelle persone che in carrozzella partecipano al campionato di basket, aiutato anche dall'INAIL, sono delle cose bellissime, quella non può essere monetizzata, perché quella è la vita, quella è la gioia, quella è la sofferenza, è la competizione. Si apre dunque una settimana di incontri, laboratori, spazi aperti, dedicati a grandi e piccini, ha precisato l'assessore, che nell'occasione ha rivolto un ringraziamento a tutti gli operatori, le cooperative sociali e i volontari impegnati sul campo. Novità a Termoli sull'operazione Chiavetta Magica, che ha portato all'arresto di diversi operai Fiat lo scorso 8 dicembre. Il procuratore di Larino, Ludovico Vaccaro, sembra intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio per i 15 lavoratori accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e all'alterazione degli strumenti di pagamento. Inoltre resta in bilico la loro posizione lavorativa. Giungono novità dagli inquirenti frentani sull'operazione Chiavetta Magica, un'indagine portata avanti dai carabinieri di Termoli, tra il Molise, l'Abruzzo e la Puglia, che dopo un anno di minuziosi intercettamenti è culminata con la cattura di 15 persone, 7 arrestati e 8 domiciliali. Per loro l'accusa è quella di aver messo su una maxitruffa, con un giro d'affari pari a 300.000 euro, anche se le stime potrebbero essere inferiori al reale importo del reagiro, che consisteva nella clonazione di chiavette per distributori automatici di bevande all'interno degli stabilimenti Fiat di Termoli, Prato la Sella e quello Sevel di Val di Sangro. Per gli arrestati l'accusa formulata lo scorso 8 dicembre era quella di truffa aggravata, associazione a delinquere e alterazione di sistemi elettronici, ma ora sembrerebbero esserci importanti novità. Infatti il procuratore della Repubblica di Larino, Ludovico Vaccaro, sta aspettando l'informativa conclusiva dei carabinieri e a breve chiuderà il fascicolo sulla seguente inchiesta. Quindi così stanno per scattare le richieste di rinvio a giudizio per i dipendenti accusati di far parte di un'organizzazione che falsificava e distribuiva i dispositivi utilizzati per pagare snack e merendini nelle macchinette automatiche utilizzate allo stabilimento Fiat di Termoli e in altri impianti del gruppo. Inoltre per alcuni dei lavoratori finiti al centro dell'inchiesta è in corso anche un'altra procedura, quella che riguarda il ricorso presentato davanti al giudice del lavoro dopo aver ricevuto dalla Fiat il provvedimento disciplinare che li ha sospesi con il rischio del licenziamento. Dunque in sede di udienza preliminare si deciderà chi di loro dovrà affrontare un processo per quanto riguarda la truffa e contemporaneamente in un'altra sede si deciderà il futuro lavorativo rispetto a quelle che sono le contestazioni impugnate nei rispettivi ricorsi. Tornano le giornate di primavera del FAI. Anche in regione sarà possibile visitare luoghi chiusi al pubblico, siti poco conosciuti, veri e propri scrigni che nascondono tesori da scoprire, le parole di Massimo Luca Dazio, presidente del FAI Molise. Sentiamo. Grazie alle giornate del FAI Fondo Ambientale Italiano i cittadini molisani potranno scoprire luoghi generalmente chiusi al pubblico poco conosciuti. Quello del 21-22 marzo sarà un fine settimana dall'alto valore storico, culturale e paesaggistico. Dalle carceri alle cisterne sotterranee saranno tanti siti visitabili. Scopo fondamentale dell'iniziativa che vedrà per la prima volta la partecipazione di Isernia a quello di conservare il patrimonio paesaggistico-culturale. L'anno scorso avevo fatto questa conferenza stampa in cui auspicavo un ingresso di Isernia come città nell'ambito delle nostre manifestazioni. Quest'anno abbiamo mantenuto questa promessa e partiremo con questo percorso sotterraneo delle vostre cisterne che mi risulta non sia un sito particolarmente conosciuto anche perché essendo sotterraneo non tutti i cittadini di Isernia o la gran parte non penso che la conoscano. E noi consideriamo le nostre regioni, io rappresento anche l'Abruzzo, un po' come degli scrigni che ancora possono offrire una serie di piccoli tesori dal punto di vista sia storico che artistico e che culturale e naturalmente anche ambientale che è fondamentale per noi che possono offrire ancora tanto e soprattutto attirare sempre più interesse e partecipazione da parte della cittadinanza su questo che in fondo è il loro patrimonio. Nella provincia di Campobasso abbiamo altre situazioni come per esempio sia a Ferrazzano e soprattutto in Molise per la seconda volta stiamo offrendo al pubblico l'apertura delle carceri mandamentali che ha avuto un notevole successo l'anno scorso e che ripetiamo quest'anno. Legge numero 183 del 2014 e riflessioni sul decreto di riordino in materia di ammortizzatori sociali al centro del seminario organizzato dall'assessorato alle politiche per l'occupazione e dall'agenzia regionale Molise Lavoro e Servizio. Di Jobs Act e nuovi ammortizzatori sociali se ne è parlato oggi nella sede del governo regionale in via Genova a Campobasso a relazionare il docente di politica del lavoro Romano Benini presente anche una delegazione della direzione regionale dell'Inps Molise e l'assessore Petraroia. I paesi più avanzati hanno fatto precise scelte rispetto al funzionamento del mercato del lavoro al sostegno all'innovazione e alle politiche di governo mentre l'Italia non riesce a promuovere proprio questi tre aspetti che sono fondamentali secondo Benini per costruire le condizioni dello sviluppo. Ancora secondo Benini l'unica possibilità per creare occupazione oggi passa attraverso un adeguato sistema di servizi politiche e incentivi capace di restituire ai cittadini un ruolo attivo dalla scuola alla pensione. Altri significativi interventi sono stati curati da Luisa Carrozza delegata per il mercato del lavoro dell'Università degli Studi del Molise Rocco Mario Del Nero direttore regionale Inail Molise Francesca Sforza direzione interregionale del lavoro Molise e Fabio Iannet direttore padronato Inas Cisl. Il novecento il Molise e la grande guerra questo il titolo dell'evento promosso dall'assessorato alla cultura della regione Molise che si svolgerà all'auditorium del Palazzo della Cultura nei giorni 20, 21, 27 e 28 marzo. A parlarci dell'iniziativa la docente di economia dell'Unimol Ilaria Zilli. Sentiamo. A distanza di cent'anni la regione Molise ricorda il primo conflitto mondiale e i drammatici fatti che hanno segnato l'Italia e l'Europa con una quattro giorni che vedrà momenti di riflessione, di studio, film e convegni sul tema. L'iniziativa vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e di importanti protagonisti del mondo della cultura, dell'università e della ricerca per dare una panoramica il più completa possibile degli eventi bellici e delle loro conseguenze. Abbiamo scelto di raccontare la trasformazione storica ma anche le trasformazioni economiche e culturali cercando di dare un taglio scientifico ma non soltanto storiografico quindi aprendo alla riflessione storica, storico-economica ma anche alla riflessione culturale alla riflessione sulle trasformazioni artistiche e sono importanti, alle arti nel senso più ampio quindi anche al contributo della musica, al cambiamento che in questi primi decenni del Novecento si ha. Importante è anche una riflessione che dalla guerra arriva a ragionare sull'Europa dopo la guerra e soprattutto arrivando al presente alla riflessione sulla pace come la tavola rotonda conclusiva dimostra. Quindi un percorso ricco, articolato, multidisciplinare in cui in maniera molto sintetica si cerca di toccare tutti gli aspetti di questa grande tragedia che ha colpito non solo l'Europa ma il mondo. La Pasqua come sappiamo è ormai alle porte, a Campobasso è immancabile l'appuntamento con la processione del Venerdì Santo di particolare importanza inoltre nelle strade del capoluogo di Regione la processione del Cristo morto guidata dalle note del Teco Vorrei Servizio. Si avvicina sempre di più il periodo pasquale e come di consueto le tradizioni molisane non vorranno perdersi gli appuntamenti religiosi. Tante saranno le iniziative. A Campobasso è immancabile la partecipazione alla processione del Venerdì Santo e lo Zucatezu. Alla settimana santa sono associate tradizioni che nel rispetto del Vangelo rivivono da secoli la lavanda dei piedi, i sepolchi e la processione del Venerdì Santo. Ma a Campobasso e per il Campobassano quella che più appartiene alla sua storia è la processione del Cristo morto che con le note del Teco coinvolge emotivamente tutta la città. E' già più di un mese che nella cattedrale o a Santa Maria delle Grazie sono già iniziate le prove del coro con tutti i cantori, uomini e donne, giovani e meno giovani accomunati dalla consapevolezza di partecipare ad un evento che rimane impresso nella mente e soprattutto nel cuore di chi lo vive, da protagonista o da semplice spettatore. E prima di aprire la pagina sportiva vi ricordo che andrà in onda questa sera in esclusiva per la Regione la prima puntata del reality Il Fidanzato Ideale che vedrà la partecipazione di Voltinoti della televisione nazionale. Vediamolo in anteprima. Ciao ragazzi, piacere di conoscervi. Alcuni di voi magari mi conosceranno. Siete qua per per vincere qualcosa. Mi auguro che mi stupirete. Ho la responsabilità non di trovarmi un fidanzato ideale ma quello di giudicare. A partire da martedì, il martedì prossimo, in prima serata dovete stare incollati lì a guardarci e dovete farlo per tutte le settimane, oltre che numerose repliche perché sarà veramente molto divertente. Apriamo la pagina sportiva. Rosso-Blu domani in campo al Selvapiana per il recupero con i marchigiani del Matelica. Pronta occasione di riscatto per Mr. Vullo. Intanto il presidente del Campobasso, Perrucci, sprona la squadra e frena l'ambiente e il servizio. Non è un periodo felice in Casa Rosso-Blu. In trasferte il Campobasso sta zoppicando. Dopo il derby vinto ad Agnone, i Lupi hanno conquistato 4 punti in 5 partite. A minare l'entusiasmo sono state le ultime due sconfitte di fila. I K.O. di Chiete e Castelfidardo hanno creato qualche malumore. I play-off restano comunque una realtà, ma a preoccupare sono gli errori che hanno spalancato la porta agli avversari nelle ultime due circostanze. Dopo l'ultima sconfitta è uscito allo scoperto il presidente Rosso-Blu, Giulio Perrucci, che se da un lato sprona la squadra a tirare fuori gli attributi, dall'altro invita la piazza a non esagerare nelle critiche. Intanto domani è previsto il recupero della gara con il Matelica a Selvapiana, con fischio di inizio fissato per le 14.30. Per fortuna si torna in campo, un'opportunità da cogliere. Infatti una vittoria servirebbe a dare smalto a tutto l'ambiente. La gara di domani sarà diretta dal signor Nicola De Tullio della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Davide Iannurato e Massimo Miccoli, entrambi della sezione di Lanciano. Infine per domani diversi ragazzi meno fortunati accompagneranno i calciatori all'ingresso in campo. La Società del Campobasso ha infatti accolto l'appello lanciato dall'assessorato alle politiche sociali in occasione della settimana dedicata alla disabilità. E c'è area di festa in Casa Isernia, infatti con il Casa al Nuovo potrebbe arrivare la conferma matematica della promozione in Serie D. Con ben 14 punti in più sulla gioventù calcio da una 5 gare dal termine della regular season, l'Isernia si prepara dunque a festeggiare la vittoria del campionato di eccellenza. Domenica quindi potrebbe già essere il giorno giusto per festeggiare, infatti la gioventù calcio da una sabato affronterà il Vairano. Se l'undici pugliese non dovesse vincere, l'Isernia si ritroverebbe in D, a prescindere da come andrà domenica. Diversamente la promozione diretta arriverebbe con una vittoria se pugliesi dovessero fare risultato utile. Olimpia, Agnonese e Termoli sono a lavoro in vista dei prossimi decisivi impegni di campionato e Granata ancora non hanno metabolizzato del tutto la beffa casalinga rimediata con l'Aiesina. Gli Adriatici sempre alle prese con le grane societarie si godono la vittoria di Porto Recanati. Intanto domenica a Termoli arriva il Celano, fanalino di coda del Girone Servizio. Quella con l'Aiesina è una gara che difficilmente gli altomolisani dimenticheranno, come difficilmente dimenticheranno il fischietto di Castellammare di Stambia a Canfora, reo di aver contribuito con le sue scelte alla sconfitta dei Granata. Clamoroso in effetti il gol annullato per fuorigioco a Ricamato, lo chiariscono le immagini. Troppo severo il cartellino rosso sventolato a Cantoro per un'entrata che poteva essere tranquillamente sanzionata con il giallo. I Granata in verità dal Cantoloro però sono apparsi un po' troppo nervosi e su questo aspetto la squadra deve migliorare perché la salvezza si raggiunge avendo i nervi saldi e non perdendo la testa. Donatelli, Ibe e Cantoro saranno squalificati dopo i fatti avvenuti al Civitelle. Intanto si lavora per preparare al meglio il prossimo impegno esterno contro la Miternina. Quella abruzzese è una squadra abbordabile alla portata degli Altomolisani. In casa Termoli la squadra può concentrarsi sulle gioie che provengono dal campo a dispetto dei mal di pancia societari. Il secondo successo consecutivo ottenuto dai giallorossi fa davvero onore a tutto l'ambiente. Il ciclo di quattro scontri diretti era stato considerato decisivo ed il Termoli ha cominciato come meglio non poteva, battendo prima l'Olimpia Agnonese nel derby e poi la Recanatese al Tubaldi. Domenica al Cannarsa arriverà il Celano, fanalino di coda del torneo, ed è chiaro che la squadra di Dimeo voglia continuare spedita la propria risalita in classifica. La città è vicina alla squadra e la speranza è che le difficoltà di carattere societario ed economico non interferiscono sull'obiettivo da raggiungere. Cambiamo sport, è tutto pronto a Termoli per il tredicesimo campionato nazionale di Kung Fu Sanda, un evento sportivo di rilevanza nazionale che vedrà la partecipazione di 350 atleti provenienti da tutta Italia. L'appuntamento è dunque per il prossimo weekend di servizio. C'è grande attesa a Termoli per il tredicesimo campionato nazionale di Kung Fu Sanda, un evento di risonanza nazionale essendo l'unico nel suo genere organizzato sul territorio italiano dalla Centro Nazionale Sportivo Libertas e che vedrà la partecipazione di 350 atleti provenienti oltre che dal Molise e da ben 11 regioni d'Italia. La gara si svilupperà il sabato e la domenica, questo fine settimana, per adesso siamo 350 atleti calcolando che i bambini partono da 5 anni fino ai maggiorenni. Si divideranno nel sabato pomeriggio con le gare di forme, quindi sia di tradizionali che di wushu, con sia mani nude che con le svariate armi delle arti marziali che sono le sciabble, spade, bastoni, lancia, labarde, catene, pugnali e così via. Sabato pomeriggio faremo i bambini, quindi le categorie più piccoline, giusto perché hanno più bisogno di essere eseguiti. Dopodiché domenica mattina con inizio alle ore 9 inizieranno tutte le altre categorie dagli 8 a 9 anni in poi fino ai maggiorenni. Quest'anno come fiore all'occhiello avremo degli incontri professionistici, quindi con atleti che superano di 30 match, di 30 incontri le gare, quindi persone ad alto livello e effettueranno anche combattimenti col KPO, quindi con 3 round a 3 minuti e sarà veramente uno spettacolo vedere queste cose. Per il resto non dico altro, veniteci a vedere e vi aspettiamo in palestra se volete affrontare un nuovo sport che non conoscevi. Insomma un appuntamento da non perdere al Palasabetta di Termoli, si inizia a partire da sabato 21 nel primo pomeriggio e si andrà avanti per l'intera giornata di domenica con l'evento che sarà aperto a tutti coloro vorranno partecipare a titolo completamente gratuito. E ora passiamo al ciclismo, continua il momento negativo per il ciclista molisano Apollogno, il velocista Isernino si è fratturato lo scafoide della mano sinistra cadendo dalla bici durante un allenamento di routine. Per il ciclista dunque arriva un'altra tegola che lo terrà fuori dalla Milano-Sanremo di domenica prossima. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Dal 24 febbraio al 30 aprile, Harlem Design presenta Svuota Harlem! 1500 metri quadri di fuori tutto! 1500 motivi per fare affari! Cogli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione! Svuota Harlem! È semplice! Guarda, tocca e porta a casa! Ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo! Anche la domenica pomeriggio! Vieni con tutta la famiglia! Questa primavera da Harlem Design, il risparmio è di casa! HarlemDesign Arredamenti.it Seguici anche su Facebook! Previsioni del tempo per mercoledì 18 marzo. La perturbazione si allontana definitivamente lasciando ora spazio a correnti più asciutte dai quadranti settentrionali. Condizioni meteorologiche pertanto in ulteriore miglioramento salvo residuo a nuvolosità e fenomeni al mattino. Ventilazione debole in rotazione dai quadranti nord-occidentali nella seconda parte della giornata. Mari poco mossi o localmente mossi. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni invece nei massimi che si manterranno tutto sommato in linea con le medie di questo periodo. Campobasso minima 5, massima 13 gradi. Isernia minima 4, massima 12 gradi. Termoli minima 9, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da... Dal 24 febbraio al 30 aprile, Harlem Design presenta... Svuota Harlem! 1500 metri quadri di fuori tutto! 1500 motivi per fare affari! Togli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione! Svuota Harlem! È semplice! Guarda, tocca e porta a casa! Ti aspettiamo nello showroom di vintiaturo! Anche la domenica pomeriggio! Vieni con tutta la famiglia! Questa primavera da Harlem Design, il risparmio è di casa! Harlem Design Arredamenti.it Seguici anche su Facebook!